L'avete tanto attesa, ma la guida alla Season 4 è finalmente arrivata. Questa, ragazzi, è la mappa della nostra bellissima New Dawn dopo l'arrivo di Revenant, ok? Io ci scaraboccherò un po' sopra. Prima la guardiamo così al volo, poi ci scarabocchio. Allora, le zone che sono rimaste invariate, io vi ricordo anche la mia guida della Season 3, sono tendenzialmente quelle su cui vi ho consigliato anche di fare la rotation, ovvero Lava City, The Dome, La Factory, per me è stazione questa, ovviamente io le guardo in inglese, ma sono, vabbè, non so come sia in italiano, io gioco sempre in inglese, Skyhook, e quindi queste qua sono le mie zone preferite, no? Tendenzialmente saltavo un po' tutte le altre, e anche Thermal Station, che è una delle più tranquille, che non mi dispiaceva. Sono cambiate invece un po' The Epicenter, che ha il Survey Camp sopra, abbiamo Capitol City totalmente distrutta, e la zona tutta aperta che c'era prima qua, Fuel, è diventata Harvester. Allora, considerazioni al volo sulla mappa, cose che dovete sapere. Numero 1, i Cargobot, quelli che avevano le palline che giravano per la mappa, non hanno più la Volki all'interno, ce n'è sempre una sola di Volki all'interno della mappa, e la potete sempre e solo trovare all'interno del Mirage Voyage. Numero 2, tendenzialmente il loot di Capitol City, il fatto che sia divisa, la rende un pochino più... è un pochino meno gettonata da parte dei team, io ho visto che molti meno ci vanno. Lo stesso vale per Harvester, ok? Che è un'altra zona che ha del buon loot, un po' sparso, e secondo me rischia di essere facilmente aggrediti se andate in quella zona. Numero 3, onestamente mi sembra che i cambiamenti importanti da sottolineare, più che sulla mappa, sono sulle armi, no? Il Devotion è diventato un'arma leggendaria, l'Hellstar è diventata un'arma da close range, e non mi dispiace neanche troppo, penso che sia davvero molto molto interessante, e poi ovviamente il Turbocharger è stato tolto come hop-up, e l'Avok è diventato un pochino più schifoso, tra virgolette, e poi è stato inserito Revenant. Allora, questa è la nostra bellissima mappa, ovviamente volevo fare vedere un paio di rotation interessanti, io come sempre ragazzi vi direi che le zone carine, allora giocandola ormai abbiamo, ho tre settimane di esperienza sulla mappa, anche per questo mi sono preso un po' di tempo prima di fare la guida, perché volevo vedere un pochino cosa sarebbe cambiato. Vedo che la maggior parte, insomma, dei cerchi che mi capitano tendenzialmente finiscono in queste zone qua, tendenzialmente vedo sempre, vedo sempre un'ottima, tralasciando probabilmente Capital City, tendenzialmente i cerchi mi chiudono sempre in queste zone, poi ovviamente a volte chiudono a Skyhook, a refineria, eccetera. Il problema però è questo, mi piacerebbe evidenziare due cose di questa mappa, prima di parlarvi delle rotation. Harvester, allora qua c'era una zona totalmente vuota, non so se ve l'ha ricordata della season scorsa, rimane comunque una zona bruttina, così come The Tree, rimangono abbastanza isolate con Thermal Station, rimangono abbastanza isolate come zone, dai punti che hanno un pochino più di loot, cioè i punti che hanno tanto loot in questo gioco rimangono più o meno quelli della scorsa season. Skyhook ha un sacco di edifici e un sacco di loot al suo interno, non ci sono più le tre casse, quelle dove c'era la viola assicurata, quindi non andateci più, non serve, non serve. Lava rimane comunque una zona abbastanza caruccia per un solo team, drill site così così, nel senso che poi c'è tutta, dovete considerare sempre questo, immaginatele come delle maxi zone, guardate cosa le separano. Se noi consideriamo Harvester come zona singola, come maxi zona, è separata da un lungo tratto per andare a Capital, è separata da questo tratto qua per andare a Stazione, dove comunque ci sono soltanto una, due, tre, quattro case, un po' così così, e lo stesso vale se volesse andare a Leaf, che è comunque una zona abbastanza loot, è vero che è vicino a Stazione, ok? Stazione è una buona zona, c'è tanto loot all'interno. Se invece volesse andare a Mirage, passa attraverso queste casette, e comunque sono tutte zone abbastanza blande, ok? Lo stesso vale per Trainyard, a me Trainyard non fa impazzire, cioè ci sono zone che valgono per un team, no, per un solo team, e zone che valgono per due, tre, quattro, anche cinque team ci possono atterrare ipoteticamente, cioè pensando a Skyhook, secondo me ci possono stare dalle quattro alle cinque squadre. Nel Mirage Voyage già se ci sono due team, è già difficile che riescono tutte e sei le persone a luttare, quindi questo cosa significa? Che voi dovete immaginarvi principalmente le zone buone come quelle che luttate, poi intorno hanno altre zone carine, ok? Senza fare troppa strada, o comunque che ci sia un palloncino che vi possa subito far rilanciare. Quindi, di questa zona qua, tutta questa zona qua, io vi consiglio principalmente di atterrare a Mirage Voyage, che è uno dei punti secondo me interessanti, ok? Solo se siete da soli, quindi uno dei primi posti che consiglio a Mirage Voyage se siete da soli, perché avete la Volki, perché è sicura, perché avete il palloncino vicino, in realtà ne avete addirittura due, potete redeployare un po' dove vi pare. Altre zone importanti, io rimango un fervente innamorato di Lava City, perché affianco subito a una zona molto buona come quella di Dome. Sono affiancate, tendenzialmente è una di quelle che la gente molto spesso, una delle due le lascia, quindi il loot salta fuori, considerate comunque che sono sei building, ma sono tutti a due, tre o quattro piani, quindi Lava è molto buona. Dome un pochino meno, Dome potrebbe farvi rischiare a volte di dover ruotare su questi tre building qua prima di prendere il palloncino, quindi considerate Dome come unito al cerchio giallo, ok? Mentre Lava City da sola va benissimo, Lava City dovrebbe bastarvi per poi andare al palloncino e andarvene via. Altre zone, ovviamente io Skyhook la considero un'ottima zona, perché ha tre strade per andare via dopo che avete luttato. Lutto è garantito di base e poi potete scegliere se prendere il palloncino da qua e andare da una parte o addirittura Lava. Avete il tunnel se volete scappare, avete questo e o addirittura il tunnel del treno per proprio scappare alla grande. Sono tre direzioni buone, potete luttare e potete anche dividere addirittura la città in un tot di edifici per poi scappare via se ci sono altre squadre, quindi non è mai da sottovalutare. Skyhook è una delle zone migliori, ovviamente un pochino più rischiosa, ma che alla fine pagano meglio a livello di loot. Togliendo questo, ok, togliendo Skyhook, Mirage Voyage, Lava e Dome, io sono sempre un po' incerto per le altre, perché se notate sono tutte ai bordi della mappa. Questo significa che tendenzialmente un lato lo avete sempre coperto. Se voleste andare per esempio ad Harvester, non sapete, a parte che andando ad Harvester, come vi dicevo prima, la maggior parte dei tratti che vi collega a una zona di interesse vi porta a fare un botto di strada, ok, vi porta a fare un botto di strada in delle zone dove non c'è copertura o comunque non ci sono edifici o comunque non c'è loot. Cioè immaginate, guardate comunque quanta strada dovete farvi per andare in un qualunque punto di interesse, ok, anche qua, se voi arrivate alla stazione di Thermal Station, la stazione di Thermal Station c'ha due edifici. Invece se voi prendete per esempio, ah, scusate, c'è il palloncino effettivamente, questo è vero, da Harvester c'è il palloncino, quindi io comunque rimango dell'idea che anche se prendeste il palloncino da Harvester comunque atterrereste in delle zone anonime. Non mi piace, proprio è una delle zone che non mi fanno impazzire. Prendendo invece a riferimento Skyhook avete più soluzioni del solo palloncino e anche se fossero a piedi, tolto il tunnel che è un pochino più rischioso effettivamente, potete sempre decidere dove andare. Harvester invece è un po' allo scoperto e non avete troppe coperture, mentre Skyhook comunque avete dei edifici tra cui muovervi e quindi la gente è più difficile che vi perda di vista. Harvester è una zona piana o comunque facilmente intuibile dov'è che volete scappare via, no? Mirage Voyage è un po' soffre della stessa cosa, nel senso quando voi siete a Mirage Voyage, nel caso non doveste non luttarlo, intorno non c'è granché, ci sono questi edifici, ma non mi piacciono un sacco. Questo da solo molto spesso non basta, quindi se atterrate a Mirage state sempre attenti di essere da soli o comunque state pronti a fightare perché se doveste perdere il loot di Mirage Voyage potreste incorrere nell'essere in una situazione di, proprio, di essere circondati da squadre senza loot. Nulla esclude a quelli che sono un pochino più aggressivi di fare un drop, che adesso lo segno perché l'ho provato in un paio di ranked, che non mi è dispiaciuto, ed è quello a frammento est. Frammento est non mi dispiace come zona, ha quasi sempre una viola all'interno, da qualche parte tra la stazione e le case vicino, ha il beacon, quindi per il pet finder può scoprire dove va a chiudere la safe e non è una zona da sottovalutare. Ho provato Survey Camp, che ha delle armi all'interno, è vero, non è malaccio, ma penso che sia un po' troppo scarna, servirebbe qualche edificio in più. Raffineria di per sé è buona se siete da soli, Epicentro, Snee, nel senso che essendo sotto non tieni la i ground, se un team ti puscia o comunque per qualche strano motivo un team dovesse arrivare nel momento in cui tu stai loottando sei comunque in svantaggio a livello di territorio, poi è un po' confusionario, non mi ha mai fatto impazzire Epicentro. Frammento est, quindi ve lo consiglio, Capital City, chiamatelo un po' come vi pare, il frammento est è buono per il loot, è ovvio che dovete essere veloci a loottare e poi capire cosa volete fare, potete giocare aggressivamente oppure giocare poi per andare direttamente nella safe. Infine io metterei probabilmente solo Lava Fissure, che è una zona molto simile a quella delle altre, tutte quelle a bordo. Il rischio ovviamente giocando al bordo è che poi può chiudere totalmente dalla parte opposta, se invece voi giocate per esempio a frammento est non sarete mai troppo lontani dalla safe, c'è un vantaggio dietro al giocare un pochino più aggressivamente. Questo ragazzi è più o meno il mio drop zone ovviamente. Per quanto riguarda la rotation, quindi come ruotare, a parte qualche video in cui lo spiegherò, ovviamente muovetevi sulla base di queste zone che vi ho dato, che sono sempre le migliori. Quindi se dovete muovervi da una parte all'altra, voi cercate sempre, sempre, di utilizzare i punti che ho cerchiato qua all'interno. Quindi cercate sempre di muovervi da lì. Se poi volete delle zone, ovviamente mettiamo caso che chiuda qua sopra, cosa faccio? Ci sta. Adesso io vi riedito tutta questa mappa, vi faccio vedere le zone buone, quindi dove lendare con dei colori giusti, e vi faccio vedere le rotation. Ok, allora, in questo momento, in questa mappa ho risegnato in verde tutte le zone in cui vi avevo consigliato di, ovviamente, di droppare. In rosso due punti che sconsiglio, ovviamente, specialmente quello di Trainyard, onestamente. Il tunnel di Trainyard è una delle zone sempre molto calde, dove si fighta. E invece in blue vi ho consigliato quattro palloncini, specialmente questo, che è uno dei più sottovalutati, per muovervi in fretta per la mappa. Diciamo che questo giro qua, per esempio fare Skyhook, palloncino, puoi andare all'altro palloncino che è qua, e poi da questo andare all'altro, è un giro abbastanza veloce che molti fanno durante le partite, che a me piace un sacco, perché ti dà la possibilità di tagliare, e poi, ovviamente, dovrei passare o da Harvester, e quindi rifarti il palloncino di Harvester e andare giù, ti permette di fare in fretta la mappa. Non dovete per forza usare i palloncini, ovvio, però vi consigliavo, per tutte queste zone qua, diciamo, un punto per arrivare nella zona bassa, nel caso si chiuda da questa parte, no? Quindi, se avete preso i miei drop zone a riferimento, sappiate che questi palloncini sono fondamentali, specialmente questo, questo è uno dei più importanti, e anche questo qua a leaf, dettri, scusate, lo chiamano, foglia, non so come si chiama in italiano, sono le più importanti. Invece, nel caso si chiudesse da questa parte, ovviamente, io vi consiglio questa zona qua, questa zona qua di survey camp, non sempre è controllata, survey, se avete la Watson, che è in meta, è un'ottima zona in cui andare. Quindi, passando da survey, e poi, ovviamente, andando a raffineria, che è una delle zone migliori. Ancora, attenzione, sempre per le chiusure, queste casette qua sono ottime, così come le due casette presenti qua, overlook, nel caso si chiudesse a overlook, ok? Questo magari dovrei cambiare il colore, perché non sono palloncini, magari vi confondete. Questi sono proprio degli spot in cui andare a ruotare. Oltre alla safe, oltre al drop zone della safe, voi ruotate sempre in questo modo, se dovete andare da sinistra verso destra, no? In senso anti-orario, facendo così, nel caso chiudesse qua, ok? O qua. Quindi fate tac, tac, palloncino, palloncino, e poi, ovviamente, potete andare a thermal station. Di genere, la thermal chiude nelle zone basse, una e una o due sono i più frequenti, a volte chiude anche in queste zone. Comunque, di genere, se chiude a thermal, ragazzi, tagliatela in due, e molto spesso nella zona bassa, lo stesso vale per lava city e dome. Avete un palloncino, due palloncini, dovete andare il prima possibile da quello a leaf e fate lo stesso lavoro. Invece, se dovessi chiudere qua sopra, il mio consiglio è, da qua, prendere e passare da questo lato, o da questo, se siete a piedi, ok? Questi sono i due lati migliori. Cercare sempre di passare in senso orario, da epicenter. Queste qua sono le zone un pochino più tranquille. Tendenzialmente queste sono le zone più sicure in cui passare, se lo fate ovviamente in fretta, anche col palloncino, va bene, nel caso in cui la zona chiudesse qua. E poi che altro? Beh, ovviamente il caso opposto è, se dovete andare da qua verso nord, quindi dovete fare questo giro, vi sconsiglio, vi sconsiglio il tunnel qua di geyser. La zona migliore in cui passare ovviamente sarebbe questa, un pochino, un pochino, un pochino rischiosa perché sono tutte zone strette, però col palloncino dovete soltanto cercare di stare attenti. Entrare dentro Capitol molto spesso è scartata come ipotesi, entrare dentro Capitol, potete provare a farlo. Io vi consiglio palloncino, stazione, quindi palloncino 2, entrare dentro e poi a seconda di dove chiude fare una rotation. Anche qua, in senso anti-orario nella zona bassa, tendenzialmente non è molto seguita questa cosa, ok? Le zone che eviterai sono tutte queste, quindi immaginatevi un quadratone qua, questa è la zona che eviterai, per questo vi dico fate orario, oppure se arrivate da sotto e siete qua, fate anti-orario. Vi ricordo, mi raccomando, che dovete lasciare anche cliccare il tastino iscriviti, se avete qualcos'altro, volete consigliarmi qualcosa per le prossime guide, lasciatemelo scritto, che così lo leggo, e niente, ci becchiamo alla prossima, bella ragazzi, e ci becchiamo alla prossima,